A voi alla GTG Express. Traffico aereo, segnal positivo a settembre. Dobro incidente alle carenze di raglie. Boga Maria, incontro alla regione. Al qualità Sardegna, arte contemporanea. Sigla! Convenienza extra nei supermercati Delta Cop. Dal 27 al 30 ottobre. Caffè Lavazza, confezione 2x250g, 3,99€. Birra e Knusa, da 66cl a 79 centesimi. Delta Cop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno, ben trovati alla GTG Express. L'apuntamento quotidiano con la informazione del Guerro Channel. Salute ai amici catalans. L'aeroporto delle Ghez ha arrivato al 3,1% di tràffico aereo nel mes di settembre rispetto al matezzan, al matezzan, che è già passato. Arribanta al mese del 7% di transito nazionale, 170.030 passi gels. Mentre si registra una flessione che è l'internazionale. Manco 3,1%. Pari a 47.290 passi gels. Per una mancara precedenza, aereo al matezzan, un incidente alla Scariels e Vittorio Emanuele, il 4 novembre. Entra una moto di grossa cilindrata e una Mercedes. Lo guidaro della moto a tangutti da un palzonal. E' stato accudito dal palzonal medico del Centro di Witt. Il leggo trasfoltato al pronto soccorso. Lo spompio, il San Pusat, il Sagunese alla zona. Mentre la polizia municipale ha effettuato i rilevati lucaz. Incidente automobilistica aereo entra una Fiat di Punto e una Renault a Scarielsi 20 settembre e Cravaliette. De una prima ricostruzione, Parièche, che la Fiat montante del carri Cravaliette non ha giriaspettato lo stop. L'altro automobil, che arrivava dalla zona dell'Iseo Scientific, è entrato in collisione a Damunti dell'Au a Scherra. L'autista non ha portato le esercizioni preoccupazioni, ma solo un po' di assusti. A me, l'autista della Punto ha portato una luciera farina al Cap. Al posto, pronte l'intervento della polizia municipale che ha effettuato il rilevat lucaz. L'assessor dell'agricoltura con patente della pesca, Pierluigi Caria, ha incontrato nella sede dell'assessorato regionale di Cagliar una delegazione dei pascarolzi di Boga-Marie. Al centro del confronto, le mancamenti drastiche del Boga-Marie nella marina salda. Numerose le soluzioni, posare tutte al confronto, gli pascarolzi hanno dimostrato un gran senso di maturità nel voler affrontare le difficoltà che lo comparte e sta attraversando. L'hanno fatto con proposte interessanti e con spirito constructivo. Gli presenti, con gran volontà, vogliono insieme garantire il futuro e la tutela di questa riqueza. Nel settore avanti, li seguirà un segon sencontro. Ara, veo alla regia le couture in mandiretta. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Vought Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. A Rassetti della Chiesa Talda, ai quali teli, si garrà l'inaugurazione di Sartegna Contemporanea. Curare a De Giovanni Corbia la mostra Veu Vuita Artistas. Sergio Bolgeri, Sergio Canu, Stefano Cherchi, Efisioni Olu, Marco Pili, Davide Pilia, Paolo Pilia, Maria Grazia Tuveri. La curiosità ti dà a voi. Giochi dei Creaturas, sempre della tradizione, una cantilena. Bindon, chi è smolt, lo fil del rei, quan è smolt, di Giosanit, feo la fossa sotta dell'it. Per qualsiasi generazioni, informazioni o preguntazioni, potremmo contattare la pagina Facebook e l'Algero Channel. Ora, le previsioni del tempo per domani. Viamo a vivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.